ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi vi voglio far vedere un lavoretto che ho fatto con queste perline con le lettere allora questo è un acquisto che ho fatto su amazon vi lascio poi link allora visto che sono tornate tanto di moda queste andavano un po negli anni 90 80 90 e visto che alcune youtuber le hanno riscoperte tra cui anche la ferragni diciamo che hanno riscoperto anche le perline colorate però a me piacciono molto le lettere e vi faccio vedere che cosa ho intenzione di fare nella confezione ci sono 800 perline 200 per pacchetto io preferisco queste con lo sfondo nero e le lettere colorate l'occorrente per il lavoretto che devo fare sono appunto le perline una lima che va a pile possibilmente con questo tipo di punta e andrò a mettere in un bracciale si può usare bracciale d'acciaio di argento io userò questo di pandora che ha questa apertura qui di solito i charm di pandora vanno su questo su questo lato io ho provato ma le perline non ci entrano quindi allargherò il buco e li metterò qui giusto per creare un braccialetto diverso dal solito estivo e un po divertente colorato le perline sono in acrilico e quindi sono facili da poter limare con questo ci vuole un po di pazienza adesso vi faccio vedere dovrò fare da un lato e poi dall'altro in modo che così viene da tutti e due i lati la misura giusta uguale muniamoci di un bel po di pazienza e vedrete che verrà una cosina molto carina ecco il lavoretto finito ce ne sono state due volendo si può mettere anche la terza in basso però anche così con le iniziali dei miei due tesori ci sta bene cosa ne pensate alla fine vi metto qualche foto di altri indossi che ho fatto su questo bracciale e su un altro perché ho scoperto che anche su un altro pandora vanno bene adesso vi faccio vedere quale il bracciale questo sempre di pandora adesso provo a mettere le perline ecco qui visto che le lettere dell'alfabeto le avevo ho scritto love pure così in una versione un po più seria col bianco e nero ai lati ho messo le due clip che fermano il tutto così non si muovono insomma io la trovo carino è un po per divertirsi e aggiungere un po di colore a questa estate che speriamo sia bella per tutti e niente questa è una piccola idea e signor pandora se ascolti voglio l'esclusiva vabbè scherzi a parte spero che vi piaccia io vi saluto vi do l'appuntamento in un altro video e ciao a tutti grazie a tutti